Il campionato di calcio a 11 amatoriale, organizzato dalle ACRI WISP di Venezia e promosso dalla Lega Amatori Mestre Venezia, quest'anno non avrà trasferte nel centro storico di Venezia e nelle isole, destinazioni giudicate troppo disagevoli dagli organizzatori. Così, su 20 quadri scritti, contrariamente agli anni scorsi, le due insulari per poter giocare ed iscriversi, hanno dovuto scegliere loro malgrado un campo di casa in terraferma, una vicenda che sta facendo discutere molto anche a Caffarsetti, perché rischia di diventare un pericoloso precedente. Disputare le partite del campionato Lega Calcio Amatori solo negli impianti della terraferma della città metropolitana di Venezia, escludendo tutti i campi da gioco di Venezia e isole, significa andare contro gli stessi principi e valori dello sport. È una decisione al quale come amministrazione siamo fortemente contrari. Nonostante la richiesta del Comune, gli organizzatori hanno tirato dritto che trasferte in centro storico non saranno contemplate nel calendario e potranno avvenire solo su accordo volontario tra le squadre iscritte. Non fare sport a Venezia significa, di conseguenza, andare contro chi vuole vivere, lavorare e fare attività a Venezia e di conseguenza vuol dire andare contro la residenzialità a Venezia. E soprattutto farlo solo per comodità di alcune squadre della terraferma è un segnale pericoloso ed potrebbe essere un precedente che invece non deve ripetersi. per questo, come amministrazione, Grazie a tutti